Ciao a tutti ragazzi da Zebra, ma Murigno ha qualche problema? Murigno gli è saltato qualcosa? Perché sì, perché già era un po' così, ma adesso sta peggiorando forse con l'età, forse con l'età ragazzi. Comunque prima di continuare iscrivetevi al canale, fatelo adesso, dai, 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 ho bisogno di voi, grazie, grazie, grazie. Fatelo in questo momento ragazzi, premete quel tasto. Allora ragazzi, ieri Murigno dopo la partita col Sassuolo, che l'ho appareggiato col Sassuolo, ricordo, è andato ai microfoni andando a dire che un suo giocatore lo aveva tradito, ha usato il termine tradito, e che lo aveva anche esortato a lasciare la Roma a gennaio. Come tutti sappiamo, o mai, è trapalata questa cosa, era riferito a Kasrop. Per ora, ai tutti i tifosi della Roma, io vorrei, veramente, mi dispiace, mi dispiace di questo, perché avete un allenatore che è un fallito, un allenatore che non ammette, non ammette, perché noi Juventini, e io continuo a dire che abbiamo noi un allenatore che veramente è un incapace, ma io credo, come ho sempre detto, che Murigno è un allegriano, è come Allegri, è come Allegri. Ora, io non voglio mettere in discussione Murigno sulle parole che... Cioè, nel senso, può anche essere vero che Kasrop non sia professionale, professionale che, secondo me, lui lo ha realizzato durante gli allenamenti, io ne sono convinto, poi per come si approccia la partita, può anche essere vero, ragazzi, però certe cose, secondo me, si riscutono nelle private sedi. Questo da Juventino, per me, il suo atteggiamento, il suo comportamento che ha avuto durante la conferenza, durante l'intervista, scusate, è stato del... Non voglio parlare della partita, lo schifo che abbiamo fatto in una partita, o per meglio dire, la partita è andata male per colpa di... Beh, ragazzi, io questa cosa non lo accetto, perché noi tifosi, in generale, ragazzi, in generale, non abbiamo scudetti, non abbiamo maglie, in generale, non abbiamo più la neve al naso, non siamo degli stupidi. Tu stai nascondendo, o vuoi, come posso dire, giustificare la tua squadra, o te stesso, perché non sai giocare a calcio, o non fai giocare bene questa squadra a calcio, o delle scelte sbagliate... Scusatemi... Scusate, ragazzi, scusate, scusate, scusate. O delle scelte sbagliate che tu hai fatto. Scelte sbagliate che tu hai fatto. Ora, la stai buttando in cacciara, perché la stai buttando in cacciara, per distogliere lo sguardo, l'attenzione, sulla partita da schifo che hai fatto, o che stai facendo in quest'ultimo periodo. Cari romanisti, questa è la verità. Io la Roma la seguo, e devo essere molto, ma molto sincero, cioè, con l'organico che avete, dovete fare molto, ma molto di più. Con un vero allenatore che fa giocare le squadre, la Roma sarebbe prima. Io ne sono convinto. Se non prima, ma a lottare tra le prime. Perché ha un bello organico, con delle belle soluzioni tecniche. Giocatori che sanno giocare a calcio. E Murigno che vuole andare a distorgere la situazione su un'altra parte, come al solito, come al suo solito. Sa abbusamente buttarla in cacciara. Lui si crede ancora di stare negli anni, di vent'anni fa. Ma non è più così, perché la gente guarda ormai, guarda le partite, sta attenta alle partite. Lui è rimasto dietro, ma non noi. Quindi se la colpa ce l'ha, può anche essere che ce l'ha anche caso. Io non voglio mettere in dubbio questo. Ma il primo a me è essere messo in discussione. È lui, ragazzi. È lui. E io ne sono convinto che molti romanisti, molti romanisti, lo sanno questa cosa. La sanno, perché i romanisti, come altri, non sono stupidi. Sì, ripeto, caso d'assi che ha delle pecche, nessuno lo mette in dubbio. Ma tu non puoi buttarla lì. E soprattutto se lo devi mandare via a gennaio, chi se lo prende? Se tu stai facendo queste dichiarazioni, chi lo prenderà mai? E soprattutto, se Karlsrupp ha un valore, perché ce l'ha, ora tu lo hai fatto abbassare. E chi ci va di mezzo è la società. È la società. Chi gli ripaga adesso questi danni a questa società? Perché tu adesso con le tue dichiarazioni hai buttato avanti Karlsrupp. Così, tenetevelo, ve lo regalo. Ma la Roma non è tua. La Roma non è tua. La Roma fa parte dei romanisti, di Roma, e soprattutto della società. che ci mette denaro. Anche per pagare il tuo stipendio. E adesso, con il tuo comportamento, stai depreciando già il prezzo di De Gasop. Se prima lo potevi vendere a 20, ora lo venderai a 15 se ti va bene. Se ti va bene. Per dire 20, ragazzi. Non so il valore del giocatore. Questo è il mio pensiero. Quindi è totalmente fuori luogo. Murigno è totalmente fuori luogo. E mi dispiace di questo. Per Roma. Per i romanisti mi dispiace. Per i romanisti. Avete un allenatore che a me, personalmente, non è mai piaciuto. Mai, mai, mai. Ma adesso è stata proprio una caduta proprio alla grande. E non è giusto dare la colpa a un solo giocatore. Perché se dobbiamo parlare, non lo specifico. Corso a suolo. La colpa. C'è la Smalling. Perché Smalling se l'è perso. Smalling se l'è perso. Non Kasrop. Quindi, che non dica cazzate, Murigno. E parli della partita. Perché l'hai perggiata. Perché non stai vincendo le partite. Perché stai giocando male. Perché stai giocando così male. Devi dire la verità. Devi parlare di calcio. Parla di calcio. Non parlare di stronzate. Parla di calcio. Se sei capace a parlare di calcio. Ma mi sa che non hai argomenti. E l'unica cosa che hai sono le cazzate. La murignata. Le murignate. Queste sono le cose che tu sei capace a fare. Buttarla in cacciara. Questa è la verità. Va bene ragazzi. Questo è il mio pensiero. Ditemi come la pensate voi. Iscrivetevi al canale. E romanisti. Mi dispiace che avete questo tipo di allenatore. Mi dispiace. È colpa sua. È colpa sua. Alla prossima. Un saluto da Zebra. Ciao. Ciao.